Ops a tutti, mi cari upsini upsine. Come state? Benvenuti in questo nuovissimo video A-S-M-R, fatto solo, solo per voi. In questo video vorrei proprio che vi sentiste a casa, vorrei che fosse un video spontaneo, senza programmazioni, senza nulla. Proprio fatto col cuore e con passione, va bene? Quindi sarà un semplice video di trigger, farò dei trigger e magari mi potete dire alla fine del video con un commento cosa ne pensate, va bene? Ho voluto anche non mettere la copertura per questo microfono, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, va bene? Mi raccomando, adesso indossate un paio di cuffie auricolari e stendetevi sul letto, va bene? Per cominciare vorrei fare un po' di tapping e mia sorella ha preso da poco questo bicchiere, chiamiamolo così, da Maison du Monde. Volevo farci un po' di tapping, perché qua il tapping è più con la O, mentre qua è più con la I. È strano perché alla fine il bicchiere è uno solo, eh? Poi volevo anche parlare un po' con voi. A parte che il suono di questo piccolo rivestimento è fantastico. Non so voi, ma io sono già in un mood natalizio, inizio già ad ascoltare le canzoni natalizie, mi rimangono nella testa. E lo so che Halloween è stato praticamente cinque giorni fa, quattro, ma ho già nel cuore il Natale io adesso. Voi cosa fate di bello a Natale? Io penso che lo passero in famiglia, perché almeno da me è diciamo tradizione passarlo in famiglia. Dai, posiamo questo trigger, lo appoggio qua, prendiamone qualcun altro. Ok, dai, che ne dite di un bel pacco di fazzoletti. Io ho sempre adorato questo trigger, è veramente, veramente rilassante. Soprattutto quando il pacchetto è ancora chiuso. Anche questi qua hanno già un mood natalizio, guardate che carini. Adoro troppo. Anche l'inquadratura dovrebbe essere lì. leggermente diversa, l'ho abbassata un po' e zoomata di meno. Quindi voi magari mi vedete tipo tagliato qua, non lo so. tutte, non lo so... ... ... ... ... Sì Sì Posiamo anche questo Che è da un po' che l'abbiamo fatto Quindi dobbiamo cambiare suono Vediamo 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 Torniamo al tapping Guarda facciamo così Faccio un po' di tapping Sul mio cellulare Perché a me Rilassa davvero tanto Vi giuro Anche a scuola Sono sempre lì a fare così C'è il rilassantissimo Poi volete sapere l'ora esatta? Non so se lo leggete Sono le 2 e 21 del mattino Aspettate Così si legge un po' di più Sono le 2 e 21 Di domenica 31 ottobre Quindi Oggi per me ufficialmente Halloween Per voi sarà stato Un po' di giorni fa Se vi siete chiesti Chi era l'uomo sullo sfondo È Jack Falai Un attore E Mi piace tanto come attore Soprattutto Quando ha interpretato La parte di Connor In Le regole del delitto perfetto Una serie che ho amato Questa è la parte di Anche i tasti fanno un suono Anche i tasti fanno un suono Basta pure di questo, va bene? Appoggiamo pure questo qua A fine video mi ritroverò col tavolino pieno di oggetti Ok, non ci arrivavo Un sottopendola Anche i tasti fanno un suono Per questo video Ho cercato di ispirarmi il più possibile Da Nanu Philips del canale Nanu ASMR Non lo so quando guardo i suoi video La trovo veramente sciolta, rilassata, appassionata E i suoi video sono sempre magnifici a parer mio Anche i tasti fanno un suono E i tasti fanno un suono Oh ma cosa c'è sul naso? Non so, mi brude il naso stamattina Vi piace questo suono? E i tasti fanno un suono Possiamo pure questo Adesso un oggetto molto insolito Mezzo cocco Non mi chiedete come sono riuscito a reperirlo Ma l'ho fatto Non mi chiedete come sono riuscito Non so come tenerlo Pascomodo Non mi chiedete come sono riuscito a reperirlo Non mi chiedete come sono riuscito a reperirlo wow che suono wow Mettiamolo via Adesso sapete che faccio? Voglio provare una cosa Vado un attimino a prendere un trigger Vediamo se ha senso O se non lo ha Perché non sono riuscito a capirlo molto ieri sera Mentre li provavo Torno subito Eccovi qua Mi sistema un attimo Eccovi qua Per chi se lo stesse chiedendo Come giustamente potete fare Sono un totale di cento lumini Chiamiamoli così Che ha preso mia sorella per Un portacandele particolare diciamo Diciamo particolare che è meglio Ha un bel suono Diciamo farlo in diretta Che non riesco a capire otsi da Che non riesco a capire Che non riesco a capire pesa pure secondo me faccio strarire senti posiamolo è meglio questo lo appoggio di qua perchè se lo metto qua sul tavolo non ho più spazio per gli ultimi due trigger che ho preparato e già siete pronti? siete pronti? come penultimo trigger ho scelto questa boccetta di retinolo non so neanche come si usa però vabbè è la scelta per il suono ovviamente ah ho appena letto come funziona come funziona dai poi a fine video vi faccio vedere di nuovo l'ora così vedete un attimino cosa vuol dire registrare un video smr con il mondo che ti passa davanti casa e fa un caos della madonna mi sono ricordato che avrei dovuto farmi paffi e barba quindi sembrerò pure un barbone qua davanti un video solo che non ho avuto tempo ciao ciao Oh Non so se lo posso agitare, ma noi lo facciamo. Ok beh, intanto ho sto labbro che si sta scripolando, ma il mio puro cacao è laggiù, quindi non posso prenderlo. Ok, questa è la federa del mio letto. Comunque come ultimo trigger ho scelto un semplice libro, ho scelto questo libro che inizierò a leggere a breve. Aspetto solo di finire quello che sto leggendo adesso e poi lo comincio. Ho scelto un libro come ultimo trigger perché vorrei ricordare che a parer mio la semplicità nei trigger è la cosa migliore. Perché per quanto proviamo a inventarci dei suoni complicati... Un trigger così semplice a parer mio sarà sempre meglio. Ma adesso una domanda ve la devo fare. Preferite i libri questi con la copertina pieghevole, diciamo, oppure quelli con la copertina rigida che non si piega? Io sarei un po' in difficoltà a scegliere, sapete? Perché i libri questi qua con la copertina pieghevole sono comodissimi. Però è anche vero che tu quando sei all'inizio devi aprire la pagina, poi quando lo chiudi ti ritrovi con il libro così perché la pagina ha preso tipo la forma. E in quelli rigidi non succede. Allora, m, a, t, e, l, i, n, e, quindi penso si legga Madeline. Scusate se non si pronuncia così, ma penso di sì. E il libro si intitola La canzone di Achille. La canzone di Achille. La canzone di Achille per nero, la canzone di Achille. La canzone di Achille e Ark cra業. Vediamo se questa cosa è uscita bene in camera oppure no. Sentite come sticchi. Vediamo se sticchi. E' della Veltrinelli, se ve lo steste chiedendo se c'è steste, non lo so, non ci pensiamo Ma non è uno sponsor, questo libro l'ho comprato fisicamente Quindi posando il libro vi faccio un attimo vedere che ore sono Allora prima erano le 2 e 21, adesso sono le 2 e 48 Oggi c'è stato un caos, non so perché, maggiore rispetto agli altri giorni Cosa devono fare le persone in moto e in macchina alle 2 e mezza di notte? Questa è la santa domanda che ci facciamo tutti quanti Però, cucù, cucù Adesso tocca a voi Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community E se siete dei maschietti diventare i miei OPSini Mentre se siete delle femminucce diventare le mie OPSine, va bene? Poi Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto E commentate qua sotto con tutto quello che vi passa per la testa, va bene? Il video di oggi Finisce qui Lo so, mi dispiace un po' Però se tu vuoi restare ancora insieme a me Se vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua, da qualche parte sullo schermo Il tasto per andare sul mio canale E vedere qualunque video che vogliate Oppure per semplicemente visitare il mio canale Quindi, buonanotte Buonanotte Un bacio E noi ci vediamo al prossimo video, va bene? Buonanotte 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 Grazie a tutti.